bentornati a tutti sul mio canale in cui parlo di argomenti di medicina odontoiatria e antropologia a scopo divulgativo in questo video parleremo della biologia dell'adolterio e chiaramente lo andremo a trattare da un punto di vista biologico antropologico ed evoluzionistico la bibliografia di questo video basata sul libro di jared diamond che vi linko in descrizione che si chiama appunto il terzo scimpanzee c'è proprio un capitolo in cui parla della scienza dell'adolterio è un argomento molto spinoso sul quale parlare appunto e ci sono anche pochi dati scientifici dal punto di vista scientifico in questo ambito ma appunto ne andremo a parlare iscriviti al canale così rimane sempre aggiornato su tutti quelli che sono i contenuti che pubblico dal punto di vista evoluzionistico l'adolterio risulta essere vantaggioso perché appunto vincono gli individui che sono in grado di rilasciare il maggior numero di figli e perché appunto in questo modo i loro geni tendono a non estinguersi tuttavia un tema spinoso e quindi le informazioni scientifiche sono poche ma una delle informazioni più sicure risale circa al 1900 queste informazioni si ottennero appunto per studi fatti per altre ragioni per altri motivi da un medico che ha preferito comunque sia rimanere anonimo e che quindi di Jared Diamond ha denominato come Dr. X verso la fine del 1940 il Dr. X studiava la genetica dei gruppi sanguini umani che acquisiamo appunto per trasmissione ereditare i gruppi sanguini appunto sono molto 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 importanti e il progetto di ricerca del Dr. X era quello di raccogliere in un noto reparto di ostetricia di un ospedale americano campioni di sangue da mille neonati e dai loro genitori. Così il Dr. X identificò i gruppi sanguini di tutti i campioni e con metodi genetici ricavò le tipologie di trasmissione ereditaria. I risultati lo lasciarono completamente sbalordito perché il 10% di quei neonati era sicuramente frutto di rapporti extraconiugali e la loro origine anomala era ben dimostrata dal fatto che possedevano uno o più gruppi sanguigni mancanti in entrambi i genitori ufficiali e rapporti extraconiugali sono così frequenti da rendere il matrimonio una semplice finzione. Molte molecole usate appunto nei test al tempo del Dr. X erano ancora sconosciute e il numero di concepiti in rapporti extraconiugali sicuramente era maggiore al 10% però all'epoca diciamo i test non erano accurati come oggi. Se avessero ripetuto lo stesso tipo di test ai nostri tempi probabilmente quella percentuale sarebbe stata molto più alta come appunto ritiene già le diamond. I rapporti extraconiugali fanno parte dei costumi sessuali della nostra specie da lungo tempo. Cosa induce però la nostra specie a commettere l'adulterio? Stiamo chiaramente analizzando il diciamo il problema non dal mio punto di vista cioè non sto parlando in maniera soggettiva ma in maniera oggettiva. Beh i motivi biologici di ciò possono essere differenti. È chiaro che tra l'uomo e la donna c'è uno sforzo ben diverso nell'avere i figli perché per l'uomo lo sforzo è semplice può farlo nello stesso giorno e con più donne infatti. Per le donne invece lo sforzo è notevole perché richiede la gravidanza, richiede l'allattamento, c'è un grandissimo dispendio di tempo, un grandissimo dispendio di energia e può farlo soltanto con un uomo e quindi un uomo diciamo tende maggiormente a essere attratto dai rapporti extraconiugali e dalla poligamia. La donna invece tende ad andare più verso l'ipergamia e quindi un uomo guadagna molto di più rispetto ad una donna se si considera il criterio del numero di figli. Infatti vari dati statistici riportano che i rapporti extraconiugali sono praticamente dei tabù molto spesso sono visti come dei tabù molto spesso all'interno della società ma sono allo stesso tempo molto elevati e sono numerosi sia rapporti extraconiugali che anche la poligamia è molto elevata in vari tipi di società sia nelle società diciamo civilizzate come le nostre che anche nelle società diciamo più tradizionali come per esempio in Papua Nuova Guinea e dalle analisi statistiche che sono state fatte è emerso praticamente che gli uomini tendono appunto ad essere attratti da ciò perché appunto vogliono provare nuove esperienze per noia. Le donne invece perché il loro partner o per età avanzata o per altri motivi non le soddisfa. Probabilmente sono questi i motivi che spiegano o spiegano completamente o parzialmente il perché la nostra specie sia così attratta dall'adulterio e anche dai rapporti extraconiugali e ci sia anche la poligamia. La poligamia è presente in molti animali anche per esempio in un branco di scimpanzee. Se il video ti è piaciuto ti invito a lasciare un mi piace, a iscriverti al canale, ti ringrazio per l'attenzione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!